Ciao bimbi e ciao a tutte voi mamme! Allora, l'attività di oggi sono certa piacerà sicuramente anche ai più piccoli perché pasticceremo con i colori e magari utilizzando direttamente le vostre manine o i pennelli come preferite. Questa prospettiva può suscitare un po' di preoccupazione nelle mamme ma per questo utilizzeremo a terra una tovaglia plastificata che ora abbiamo un po' imparato a conoscere nelle case di tutti. Ci serviranno poi delle tempere, in particolare il rosso e il nero perché l'attività di oggi, bimbi, è legata alla storia di Guizzino e poi le vostre manine o dei pennelli se preferite e per i più grandi anche dei colori pennarelli. Siete pronti? Lavoriamo con la digitopittura, con la pittura con i pennelli e con ogni forma di colore per realizzare Guizzino e i suoi amici del mare. Ho, ho, ho! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.